eccoci qua a tutti voi un buon pomeriggio da marcus la nuovissima previsione su youtube prenderemo un esame ora il 17 17 che già dal 30 di ottobre non si è fatto vedere per almeno qualche colpo su palermo e genova 5 10 15 16 17 17 genova 17 palermo andremo a vedere poi le solite frequenze fra le due ruote vi dico già che palermo potrebbe essere veramente quella più forte perché gli arriva il contributo da cagliari e palermo 7 10 somma 17 dalla somma x2 quindi 17 palermo potrebbe essere la ruota primaria poi andremo a vedere di nuovo il 90 il famoso formato il famoso 90 su firenze le ruote dalla classifica 90 le sapete memoria bari firenze e torino dovrebbero essere quelle che sono rimaste le andremo a rivedere adesso la nuova previsione come vi dicevo c'è l'ambata contatta che arriva su palermo e poi la somma x2 che fra cagliari e palermo subito grafico lineare guardate un attimino qua palermo subito al suodo palermo presenta questa situazione soglia di uscita ormai siete più bravi di me poche estrazioni quindi non è molto frequente 17 su palermo ma sapete voi che quando arriva nella soglia di uscita grazie a questo bellissimo programma che si chiama lotto più più che ancora io lo metto sempre nella descrizione perché uno volesse acquistare è sempre comunque in offerta dal prezzo originale comunque è sempre il meno costoso allora già questo per quanto riguarda sempre le frequenze importantissimo ve lo dirò sempre alla nausea per è fondamentale poi ovviamente per vedere la frequenza di ogni numero praticamente la uscita di questo numero che a noi interessa palermo presenta questa situazione 28 estrazioni di ritardo cioè di uscita ma presenza 27 di ritardo quindi si livella attenzione quando io dico si di livella perché vuol dire che nelle estrazioni quelle che sono già uscite quindi la statistica ci dice che più o meno il 17 e se sui 27 25 36 ritardi di uscita poi andremo un attimino a vedere genova perché la ruota di rimbalzo scusate la ruota doveva a finire proprio il 17 ma vi dicevo 17 secondo me di palermo è molto meglio perché oltre avere questa regolarità prende il 7 di cagliari e il 10 di palermo e quindi formare il 17 sapete che insomma x2 anche lei sgarra ben poche volte 17 su genova guardate un pelino meno frequente ma guardate qui quindi ha una irregolarità secondo me che non va bene potrebbe uscire su genova ma le ruote di calcolo sapete che è abbata contata quando va può rimbalzare tranquillamente o arrivare sulla ruota dove arriva quindi abbiamo già esaminato le ruote il 17 arriva c'è la somma x2 quali abbinamenti potrebbero andare d'accordo col 17 già fatta la verifica già fatto il controllo numerico l'ottantina potrebbe andare a ganciare 17 l'81 l'82 l'83 i numeri più buoni per i 17 di queste due ruote che sono ruote gemelle ripetiamo genova e palermo e allora nuovo foglio qui davanti eccoci qua ambata 17 genova alla prima la terza le più forte come strato semplice guardate anche palermo prima e terza posizione che a palermo presentano queste posizioni in entrambe le ruote sono le più forti non dimenticate l'estrato semplice sempre loro comando per quelle persone che amano l'ambata quindi il gioco dell'ambata semplice o l'ambata determinata ripeto genova prima terza le più forti che sono quelle più ritardo palermo prima e terza le più forti che sono più in ritardo abbinamenti avevo detto 81 82 83 per i 17 genova palermo e questa è la nuova previsione e quindi è portato avanti già come la scorsa che abbiamo visto è uscito l'ambetto sulla nazionale è uscito un terno in cinquina peccato su genova adesso invece le ruote di calcolo genova e palermo vediamo se l'ambata contata riuscirà a darci questa soddisfazione in più la somma x2 che vanno a contatto benissimo fra di loro e poi ovviamente l'esaminare i numeri la frequenza la cosa che vi ho fatto sempre vedere da ormai da anni su questo mio canale da qualche anno allora 81 82 83 l'ottantina gli abbinamenti per genova palermo chi vuol fare gli ambi separati li può fare chi può fare tutti insieme lo possa fare tranquillamente con l'ambulterno e l'acqua terna tutto questo per quanto riguarda la nuova previsione su youtube adesso andremo a vedere la classifica del 90 che ormai la sapete memoria ecco la prima somma quella abbiamo detto che Firenze è quella che ha il ritardo delle uscite di ambata contata quindi è l'unica ruota adesso che è rimasta perché ha la frequenza uguale a quella di Roma quindi attenzione la somma stessa della somma 90 già al 30 settembre non è ancora arrivato il 90 su Firenze poi la somma fra Firenze e Torino abbiamo detto che Bari Firenze e Torino sono ancora quelle ruote dove dovrebbe ricevere il 90 queste ruote e abbiamo detto che Firenze e Torino c'è la somma 90 e quindi ancora Firenze non su 90 e quindi ancora Torino non è su 90 e come vi sto ripetendo da giorni il 90 con quei abbinamenti non è ancora arrivato quindi fa bene sperare anche per Firenze va bene poi ancora guardate Firenze e Roma di nuovo era il 28 di ottobre poi ancora sempre nella stessa trazione l'88 e 2 quindi abbiamo due con nella stessa trazione il 28 ottobre c'era la condizione 50 e 40 di nuovo su Firenze e Roma perfetto due ruote gemelle diametrali sono spettacolari queste due ruote quindi somma 90 ma la doppia somma 90 vale e riflette di nuovo anche Firenze tra l'88 e Venezia ma Venezia abbiamo detto che è uscita già sei volte il 90 quindi adesso il recupero spetta alle altre ruote mancanti Bari Firenze e Torino poi abbiamo un altro Firenze Venezia che abbiamo fatto vedere prima ma poi ancora guardate Roma e Bari ecco per Bari che si affaccia la somma 90 per Bari vedete come si collega tutto l'ho sempre detto sembra che tutte le strade veramente porti una roba chi ci arriva in un modo chi ci arriva in un altro ma tutti concordano che queste situazioni vanno a semplificarsi poi in delle somme oppure in delle convergenze particolari con varie varie svariati tipi di tecnica mi martellate anche a me con i soliti messaggi hai ragione Bari rispetto al 90 c'è la somma 90 e infatti c'è ancora Bari e Roma che rispetto al 90 ma Roma ha già dato ecco perché vi dico Bari Firenze la più attesa e Torino perché vedremo che questi 90 sono i retro anche delle ambate contate che come vi ripeto l'ambata contata difficilmente sbaglia può succedere che sbaglia ma difficilmente poi l'ultima somma eccola qua quella di giovedì scorso quindi quella di ieri sera 26.64 somma 90 l'ultima somma 90 per Firenze vedete che Firenze prende piede quindi Firenze è quella che ci aspettiamo e poi ha il record di somme 90 quindi attenzione a questo 90 su Firenze poi ovviamente le posizioni del Firenze le sapete a memoria ma le andiamo a rivedere direttamente qua su con l'8++ subito subito andiamo a vedere grafico dei ritardi e Firenze qual era perché poi ce ne dimentichiamo e noi siamo qua per questo per far vedere allora innanzitutto spettacolare riprende la sua posizione regolare il Firenze vi ricordate Roma adesso Firenze aspetta Firenze 90 e guardiamo le posizioni abbiamo detto la seconda la terza la quinta dove arriva ammata contata quindi la terza in assoluto la più forte se volete fare la quinta e la terza posizione solamente se volete fare la terza posizione è stato semplice si può fare anche così gli abbinamenti sono su Telegram ve l'ho detto ora non posso più aggiungere persone su Telegram veramente perché se no diventa un gruppo fuori fuori di sé perché se no veramente andiamo veramente non diventa più un gruppo diventa un popolo un non diventa più un gruppo privato diventa un popolo privato allora ragazzi più di così non posso fare e quindi Firenze la ruota più attesa per il 90 abbiamo detto Bari vediamo innanzitutto poi Bari con il 90 guardiamo le posizioni di Bari allora Venezia ha già dato Bari eccola qua seconda e terza seconda e terza anche la quinta per Bari vi ricordate poi vediamo un attimo Torino e Torino questa praticamente la quarta la quinta sono le più forti e in parte la prima ok io vi abbraccio allora vi rifaccio poi vedere cioè riportate indietro lo video perché adesso lo schema l'ho tolto Palermo e Genova Genova Palermo col 17 entrambe le ruote le posizioni più forti con il 17 sono la prima la terza e come stato semplice ovviamente su Genova e Palermo Genova Palermo hanno le stesse posizioni di forza quindi la prima e la terza posizione gli abbinamenti 81 ve lo ripeto 82 83 ambi separati ambi secchi e poi terra e quaterna ci risentiamo e poi un abbraccio ancora a voi tutti voi grazie sempre per la cortesa attenzione marcus